Il cambio di panchina all'arrivo di Caramelli al posto di Lazzerini non ha portato per ora nessuna svolta in casa della Valdinevole Montecatini. I termali hanno subito un'altra pesante sconfitta in Liguria, eppure i bianco celesti dal primo minuto avevano dato l'impressione di poter raccogliere qualcosa di più, ma alla distanza sono calati e poi annientati dai padroni di casa. Montecatini incassa un altro tris e resta fermo da 5 turni con una vittoria che manca da 17 giornate e fu proprio contro Albissola in casa che conquistò i primi tre punti della stagione. Visto il pareggio dell'Argentina, i termali vengono raggiunti proprio da quest'ultima. Nell'ultima prestazione, al di là del K.O., il 14esimo della stagione, si sono comunque visti segnali di ripresa. Piccoli, ma ci sono stati, anche solo per il fatto di aver tenuto alta la concentrazione per 75 minuti, crollando poi nell'ultimo quarto d'ora. Forse, come sostenuto dal nuovo tecnico, c'è anche un problema di carattere, una paura che torna fuori ed è anche concepibile. La squadra fisicamente sta bene, i ragazzi si allenano tutti al 100% durante la settimana. E allora la medicina sarà a continuare a lavorare per raggiungere quanto prima almeno il terz'ultimo posto, ad una sola lunghezza, ora occupato dallo Scandicci a 12. Domenica sarebbe utile non fallire l'appuntamento casalingo. Al Mariotti arriverà il Sandonato da Varnelle, forte della vittoria sul Real, forte Querceta, con 27 punti all'attivo. Grazie. Grazie. Grazie.